E' un'altra cosa. Chi è? Dai, prendi il telefono. Bella! Bella! Zuki, prendi il telefono. Eccolo. Bella! Tu che stai facendo, fratello? Oh merda, sono fatto con una piña. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Oh yeah! 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 ma che c'è chi è dai prendi il telefono eccolo tu che stai facendo fratello? niente ammazzo figlio e ammiglio figlio I canne fanno venire fame! Oh merda, sono fatto come una vigna Grazie per la visione! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione